EGO Kiefer Benvenuti alla EGO Kiefer. Ho il grande piacere di presentarvi una sensazionale novità della EGO Kiefer. L'essere umano sopravvive per 30 giorni senza mangiare, per 3 giorni senza bere, ma solo per 3 minuti senza respirare. La EGO Kiefer produce perciò finestre ermetiche ad elevata coibentazione, che però consentono all'edificio e ai suoi abitanti di respirare. EGO Kiefer offre come unico produttore di finestre un concetto di aerazione decentrato compatibile minargie. Silenzioso e parsimonioso nei consumi, il concetto di aerazione EGO Fresh costituisce un'attraente alternativa alla convenzionale aerazione controllata centralizzata. Per la vostra ristrutturazione, il concetto di aerazione EGO Fresh offre una soluzione globale facilmente attuabile e ottimizzata nei costi in standard minargie. Il ricambio sistematico dell'aria assume una crescente importanza all'interno delle abitazioni. Come mai? Con l'introduzione dello standard edilizio minargie 15 anni fa, si sono concretizzati i concetti di efficienza energetica e di confort abitativo. Ora è possibile tenere conto in modo adeguato dell'esigenza fondamentale dell'essere umano di aria fresca all'interno. Grazie ai nuovi standard di coibentazione, oggi le perdite nell'involucro e la dispersione incontrollata d'energia fanno oramai parte del passato. Questa evoluzione decisamente positiva della qualità delle costruzioni comporta però anche delle conseguenze. Negli edifici di qualità il ricambio sistematico dell'aria assume la massima importanza. Nella moderna costruzione degli alloggi i sistemi intelligenti d'aerazione sono una necessità. Attualmente in Svizzera sono già in funzione più di 100.000 impianti di aerazione controllata che riforniscono le persone di aria fresca, di giorno e di notte, in estate e in inverno. Ma ciò che nelle nuove costruzioni è oramai uno standard mancava finora nel settore delle ristrutturazioni. Con il concetto di aerazione Ego Fresh del leading partner Minergie Ego Kiefer è disponibile per la prima volta una soluzione praticabile a livello tecnico ed economicamente assai vantaggiosa per la modernizzazione energetica. Con Ego Fresh l'arieggiamento con recupero del calore è risolto direttamente tramite la finestra sostitutiva di modo che non occorre più realizzare complesse tubazioni. Il ricambio dell'aria automatizzato è ora per la prima volta, grazie alla soluzione Ego Kiefer, pienamente competitivo. Questa competitività è stata raggiunta grazie allo sviluppo di Ego Fresh. Il nuovo concetto di aerazione Ego Fresh presenta numerosi vantaggi. Ego Fresh è integrabile nella finestra in modo quasi invisibile. I vani abitati sono protetti dal rumore esterno, in tal modo potete dormire sonni tranquilli respirando aria fresca anche in zone rumorose. Un clima sano all'interno migliora le prestazioni durante il giorno. L'aria esterna adotta è purificata mediante un filtro per le polveri fini a beneficio delle persone allergiche. La sicurezza aumenta poiché le finestre restano chiuse. Tutte queste caratteristiche vanno a vantaggio della vostra salute e del benessere. Ma come funziona Ego Fresh? Affinché l'aerazione si traduca anche in risparmio energetico, il cuore dell'Ego Fresh è un recuperatore del calore. I due flussi d'aria sono condotti attraverso lo scambiatore di calore. In inverno l'aria esterna fredda è preriscaldata dall'aria di scarico calda prima di giungere nel locale come aria di immissione. D'estate lo scambiatore di calore funziona in senso inverso, riducendo la temperatura dell'aria calda esterna. Il nuovo Ego Fresh offre ulteriori vantaggi. Il consumo di corrente è molto ridotto. Grazie al dispositivo antigelo è possibile un impiego a meno 15 gradi. Ego Fresh è equipaggiabile in opzione con un sensore CO2 o di umidità ed è integrabile in un sistema di automazione domestica KNX. Ego Fresh è silenziosissimo e particolarmente adatto per l'impiego in camera da letto. Grazie a tutti questi vantaggi è possibile applicare il concetto di aerazione Ego Fresh allo standard Minergie. Il concetto di aerazione Ego Fresh protegge voi, il vostro edificio e il clima. Il vostro particolare vantaggio presso la Ego Kiefer è che ricevete tutto, finestra, aerazione e assistenza da un unico fornitore. Visitate il nostro sito e lasciatevi consigliare in una delle nostre succursali. Inoltre potete scoprire tutti i vantaggi del concetto di aerazione Ego Fresh durante numerose fiere specializzate. Grazie per l'interesse e arrivederci!